la visita successiva la fece alla signora calam che trovo occupata a leggere i giornali spero che ritrovi il rapporto di mio marito ora capisco perché era così tormentato negli ultimi anni della sua vita ho sempre detestato questa sporca politica lo squadrò con diffidenza chiedendosi se maigret non fosse lì proprio per conto della sporca politica che cosa vuole il commissario le porse la fotografia la donna la esaminò con attenzione poi sollevò lo sguardo stupita dovrei riconoscerlo non necessariamente mi domandavo se è l'uomo che le ha fatto visita due o tre giorni dopo pichemal non l'ho mai visto è sicura di non sbagliarsi sì forse gli somiglia un po ma di certo non è la stessa persona che è venuta qui grazie cos'è successo a pichemal pensa che sia stato ucciso perché non so se vogliono evitare a tutti i costi che il rapporto di mio marito salti fuori dovranno eliminare coloro che l'hanno letto suo marito non l'hanno eliminato la risposta la sconcertò pensò di dover difendere la memoria di calam mio marito di politica non capiva niente era uno studioso ha fatto il suo dovere stendendo il rapporto e consegnandolo alle autorità competenti sono convinto che abbia fatto il suo dovere maigret preferì andarsene prima che la vedova lo costringessi ad approfondire la questione l'autista del tassi gli rivolse uno sguardo interrogativo dove andiamo all'hotel du berri vedendo arrivare maigret due giornalisti che erano in cerca di informazioni su pichemal gli corsero incontro ma il commissario scosse la testa non ho niente da dire ragazzi è solo un normale controllo vi prometto che spera di trovarlo vivo anche loro li lasciò sul pianerotolo mentre mostrava la fotografia al padrone dell'albergo che cosa dovrei farmene mi dica se è questo l'uomo che è venuto a chiedere di pichemal ne sono venuti due quello che ha preso una camera era un mio ispettore l'altro non è lui la risposta era stata categorica stando alle prime verifiche dunque benois era il personaggio con cui pichemal si era allontanato dal bistro ma non era stato visto in nessuno degli altri posti la ringrazio risali precipitosamente sul tassi andiamo via poi le dirò dove solo una volta che si furono allontanati dai giornalisti diede all'autista l'indirizzo di boulevard pasteur non si fermò a parlare con la portinaia salì direttamente al terzo piano e suonò il campanello nessuno gli aprì così dovette ridiscendere la signora godrì è fuori è uscita una mezz'ora fa col figlio sa quando torna era senza cappello sarà andata a sbrigare qualche commissione nei paraggi non ci metterà molto penso piuttosto che aspettare sul marciapiede megresi diressi al bar dove era entrato la mattina e chiamò per ogni eventualità la polizia giudiziaria dall'ufficio degli ispettori gli rispose lucas novità due telefonate a proposito di pique mal la prima di un tassista che sostiene di averlo portato ieri alla garde nord l'altra di una cassiera di cinema che gli avrebbe venduto un biglietto ieri sera sto facendo controllare la poi è rientrato sì da pochi minuti non ha ancora cominciato a battere a macchina la dichiarazione passamelo un momento e alla poi allora c'erano dei fotografi sì capo e mentre masculine parlava non hanno smesso un attimo di spararci addosso i flash dove ti ha ricevuto nella sala delle colonne come dire nell'atrio della gare san lazare gli usceri dovevano respingere la folla dei curiosi perché potessimo respirare c'era anche il suo segretario non so non lo conosco non mi è stato presentato è lunga la dichiarazione saranno circa tre pagine dati lo scritte alcuni giornalisti hanno stenografato tutto contemporaneamente a me questo significava che la dichiarazione di masculine sarebbe uscita la sera stessa con l'ultima edizione dei giornali mi ha raccomandato di fargliela firmare cosa gli hai risposto che la decisione non spettava a me e che avrei chiesto ordini al mio superiore sai per caso se è prevista una seduta notturna alla camera penso di no ho sentito dire che avrebbero finito le cinque batti a macchina il testo e aspettami in ufficio la signora godri non era ancora rincasata il commissario andò avanti e indietro sul marciapiede finché non la vide arrivare con la sporta delle provviste e il figlioletto che le trotterellava accanto la donna lo riconobbe cercava me le rubò solo un momento venga su ero andata a fare la spesa non serve che salga il ragazzino le tirava il braccio domandando chi è perché vuole parlarti sta buono deve solo chiedermi un'informazione che informazione megrè tirò fuori dalla tasca la fotografia lo riconosce la donna riuscì a divincolarsi si chinò sull'immagine ritagliata ed impulso rispose sì è lui dunque l'uomo del sigaro e jean benoit era stato in due posti in boulevard pasteur dove probabilmente si era impadronito del rapporto calame e nel bistro di rujacob dove aveva avvicinato piquemal col quale era stato visto allontanarsi nella direzione opposta a quella da prendere per raggiungere l'istituto del genio civile l'avete ritrovato domandò la signora godri non ancora ma ormai dovrebbe essere questione di ore chiamò un altro tassi per farsi condurre in boulevard san martin pentendosi di non aver preso un'auto della polizia giudiziaria perché gli sarebbe toccato discutere di nuovo la sua nota spese col contabile l'edificio era vecchio i vetri dell'ammezzato avevano la parte inferiore smerigliata e vi si leggeva chiare lettere la scritta agenzia benoit specializzate impedimenti ai due lati dell'androne c'erano le targhe di un dentista di un venditore di fiori artificiali di una massaggiatrice svedese e di altre attività ancora tra cui alcune piuttosto insolite la scala sulla sinistra era buia e polverosa il nome di benoit compariva di nuovo su una targa smaltata accanto a un campanello bussò sapendo già che non gli avrebbe aperto nessuno perché da sotto la porta spuntavano vari opuscoli pubblicitari che si erano accumulati aspettò qualche istante per scrupolo quindi scese e cercò la guardiola della portineria che finì per scovare in fondo al cortile invece di una donna vi trovò un calzolaio la guardiola gli serviva anche da bottega e da molto che il signor benoit non si fa vivo oggi non ho visto se è questo che vuole sapere e ieri non so no direi di no non ci ho fatto caso e l'altro ieri neanche sembrava infischiarsene del mondo intero e megre gli mise il distintivo sotto il naso le ho detto quello che so non c'è niente di male no gli affari degli inquilini non mi riguardano conosce il suo indirizzo di casa si dovrei avercelo si alzò a malincuore e da una credenza da cucina tirò fuori una specie di registro unto e bisunto che spogliò con le dita annerite dalla pece l'ultimo recapito che ho è quello dell'hotel bon marché in boulevard bon marché non era distante e megre vi si recò a piedi ha traslocato tre settimane fa gli dissero è rimasto qui solo due mesi stavolta lo mandarono in una pensioncina piuttosto equivoca in rue Saint-Denis davanti alla quale stazionava una ragazza fin troppo opulenta che aprì bocca per rivolgergli la parola ma all'ultimo momento dovette riconoscerlo perché si allontanò scrollando le spalle alla camera 19 ma non c'è ha passato la notte qui emma hai rifatto la camera del signor benua stamattina una testa si sporse dalla rampa del primo piano chi lo vuole sapere non sono affari tuoi rispondi no non ha dormito qui è la notte precedente neanche megre chiese la chiave della camera la ragazza che aveva risposto dal primo piano lo seguì fino al terzo con la scusa di fargli strada le porte erano numerate e il commissario non aveva bisogno di lei ma ne approfittò per rivolgerle qualche domanda vive solo intende se dorme da solo sì abbastanza spesso a una donna fissa ne ha molte di che genere il genere che accetta di venire in posti come questo sempre diverse ho già visto un paio di volte la stessa faccia le trova per strada io mica ci sto quando le scegli e sono due giorni che non mette piede qui due o tre non so dirle di preciso qualche volta riceve anche visite di uomini se ho capito a ciò che si riferisce non è il suo genere e neanche quello della casa c'è un albergo apposta in fondo alla strada megre scoprì ben poco nella camera era la tipica camera immobiliata con un letto di ferro un vecchio comò una poltrona mezzo sfondata e un lavandino con acqua calda e fredda nei cassetti c'era della biancheria una scatola di sigari cominciata un orologio fermo e ami di varie misure in una busta di cellofan ma niente che potesse avere un qualsiasi interesse in una valigia soffietto trovò solo scarpe e camicie sporche gli capita spesso di non rientrare a dormire come no e tutti i sabati se ne vai in campagna e ci rimane fino a lunedì megre questa volta si fece portare al chiede sorfevre dove la poi aveva finito già da un pezzo di battere a macchina la deposizione di mascoleo telefona alla camera e chiedi se i deputati sono ancora là devo dire che lei vuole parlargli no non menzionarmi e non alludere neanche alla polizia giudiziaria quando si voltò verso lucas questi scosse la testa c'è stata un'altra telefonata dopo le prime due abbiamo controllato torranse ancora in giro sono tutte false piste non si trattava di pique mal no l'autista del tassi era il più sicuro di sé ma abbiamo rintracciato il cliente nello stabile davanti al quale l'aveva caricato sarebbero arrivate altre segnalazioni soprattutto l'indomani con la posta la seduta alla camera è finita da mezz'ora gli annunciò la point era solo una votazione per non mi interessa per cosa dovevano votare sapeva che masculin abitava in rudenten a due passi dell'opera hai qualcosa da fare niente d'urgente allora vieni con me e porta la deposizione maigret non guidava mai aveva tentato quando alla polizia giudiziaria erano state assegnate parecchie auto nere di piccola cilindrata ma gli era capitato immerso come era nei suoi pensieri di dimenticarsi che era al volante due o tre volte era riuscito a frenare solo all'ultimo momento così aveva lasciato perdere prendiamo la macchina sì era un po' come se volesse farsi perdonare dall'ufficio contabilità a tutti i tassi di cui si era servito nel pomeriggio sa qual è il numero civico di rudenten no ma è il palazzo più vecchio della strada era un caseggiato rispettabile vecchiotto ma in ottime condizioni maigret il giovane la point si fermarono davanti alla guardiola che sembrava un salotto piccolo borghese e odorava di cera e di velluto masculin fece maigret alla portinaia a un appuntamento maigret per tagliare corto rispose di sì in quel momento la donna tutta vestita di nero lo guardò poi guardò la prima pagina del giornale e ritornò a guardarlo immagino di doverla lasciar salire commissario primo piano a sinistra abita qui da molto saranno undici anni a dicembre il segretario vive con lui la donna fece un risolino no di certo maigret ebbe l'impressione che gli avesse letto nel pensiero lavorano fino a tardi la sera spesso quasi sempre credo che il signor masculin sia uno degli uomini più occupati di parigi pensi a quanto ci vuole anche solo per rispondere alla corrispondenza che riceve qui o alla camera maigret stava per mostrarle la fotografia di benois e chiederle se lo avesse mai visto ma siccome la portinaia lo avrebbe di sicuro riferito masculin preferì non scoprirsi troppo lei ha una seconda linea telefonica collegata con l'appartamento del deputato come fa a saperlo non era stato difficile capirlo perché nella guardiola oltre all'apparecchio normale c'era un telefono a muro più piccolo masculin era un uomo prudente la portinaia l'avrebbe dunque avvertito dell'arrivo di maigret mentre lui e la poin salivano non aveva importanza e del resto se avesse voluto avrebbe potuto impedirglielo lasciando la poin di guardia suono il campanello e rimase in attesa per qualche minuto ad aprire la porta dopo un po fu lo stesso masculin che non fece nemmeno lo sforzo di fingersi sorpreso ero certo che sarebbe venuto di persona e che avrebbe preferito incontrarmi qui entri pile di giornali riviste resoconti di dibattiti parlamentari ingombravano il pavimento dell'ingresso ce n'erano anche in un'altra stanza che fungeva da salotto e che non era molto più accogliente della sala d'attesa ad un dentista era evidente che masculin non teneva né al lusso né alla comodità immagino che voglia vedere il mio studio c'era un che d'insultante nella sua ironia nel modo in cui sembrava prevedere le intenzioni dell'interlocutore ma il commissario mantenne la calma e si limitò a replicare non sono mica un'ammiratrice venuta a chiederle un autografo si accomodi oltre passato una doppia porta imbottita si ritrovarono in uno studio spazioso con due finestre che davano sulla strada due intere pareti erano ricoperte di schedari verdi su degli scaffali erano allineati liberi di diritto come quelli che hanno tutti gli avvocati e infine per terra ancora pile di giornali e quasi più incartamenti che in un ministero le presento rene falche il mio segretario il giovanotto non dimostrava più di venticinque anni era biondo e mingherlino e l'espressione imbronciata gli davo un'aria stranamente infantile piacere mormorò guardando maigret con la stessa faccia con cui l'aveva guardato la signorina blanche la prima volta come la segretaria di point doveva essere un fanatico ammiratore del suo principale e considerare tutti gli estranei dei potenziali nemici ha portato il verbale in più copie immagino tre copie due da sottoscrivere come mi ha richiesto e la terza per i suoi archivi o per farne l'uso che crede masculen prese i documenti porse una copia a rene falche ed entrambi si misero a leggere la deposizione seduto alla sua scrivania il deputato prese una penna aggiunse una virgola qua e là cancellò qualche parola e mormorò rivolto la poi spero che non si offenda quando arrivò all'ultima riga firmò riportò le correzioni sulla seconda copia e firmò anche quella migre tese la mano ma masculen non gli restituì i fogli e neanche riportò le correzioni sulla terza copia va tutto bene domandò al segretario mi sembra di sì e fanne una copia lanciò al commissario un'occhiata beffarda uno che ha tanti nemici come me non prende mai abbastanza precauzioni specialmente quando ci sono persone che hanno tutto l'interesse a non far saltar fuori un certo documento falche aprì una porta che non sicuro di chiudere alle sue spalle lasciando intravedere una stanzetta forse un tempo una cucina un bagno con un tavolo di legno chiaro su cui era appoggiato un apparecchio per le copie fotostatiche il segretario schiacciò qualche pulsante e la macchina cominciò a ronzare poi introdusse i fogli a uno a uno insieme ad altri fogli di carta speciale ma gre che conosceva il sistema ma che di rado aveva visto un'apparecchiatura del genere in un'abitazione privata seguiva l'operazione con apparente indifferenza bella invenzione vero disse masculin sempre con lo stesso guigno a volte le copie carbone vengono contestate ma è impossibile rigettare una copia fotostatica sul volto di maigret era comparso un mezzo sorriso che non sfuggì al deputato a cosa sta pensando mi chiedevo se tra le persone che di recente hanno avuto per le mani il rapporto calama non ce ne sia qualcuna a cui è venuto in mente di farne una copia fotostatica non era un caso se masculin gli aveva lasciato vedere la fotocopiatrice falca avrebbe potuto assentarsi un momento con i documenti senza che il commissario sospettasse che cosa combinava nella stanza vicina i fogli uscivano da una fessura e il segretario li stendeva sul tavolo ancora umidi sarebbe un bello scherzo per tutti quelli che sono tanto interessati a soffocare lo scandalo non le pare soghignò masculin maigret lo fissò in silenzio con il suo sguardo più inespressivo e più penetrante poi ripete sì proprio un bello scherzo era impossibile capire che quelle parole gli avevano fatto a capponare la pelle